Buonasera a tutti, sono Andrea Cracovia di Sintra Digital Business, sono business developer e commerciale, siamo partner di Shopify e questa è la prima edizione dell'e-commerce day a cui abbiamo partecipato. È stata un'esperienza molto costruttiva, abbiamo avuto modo di conoscerci con dei partner e con appunto contatti, aziende di grande livello, da cui abbiamo appreso il livello di digitalizzazione che c'è in Italia. Il messaggio che deve veicolare l'e-commerce day attraverso i discorsi di aziende di alto livello che la cultura italiana attualmente è digitalmente molto indietro. La digitalizzazione non è un ostacolo, non è un impedimento per la crescita dell'azienda ma è un percorso graduale della digital transformation verso la rimozione delle attività manuali uguali a costi e benefici per migliorare il lavoro delle persone e soprattutto far crescere e consolidare il proprio business. La mia esperienza è stata molto positiva, è stato un momento comunque di confronto con potenziali partner con cui abbiamo parlato, eravamo con il nostro partner Shopify, noi siamo stati il primo partner Shopify in Italia nel 2018, è stato un modo di confrontarci con altri nostri partner di tecnologie, con contatti, con lead e persone interessate, aziende interessate comunque a intraprendere il percorso della digital transformation ma è stato molto costruttivo, soprattutto alcuni speech come Safilo, Corneliani e anche Acqua di Parma che ci hanno raccontato la loro esperienza e la loro crescita nella digital transformation.